Bella raga Buonasera Just one second Che cosa devo fare? Che cazzo è? Ah questo me lo ricordo ti cambiava tipo la batteria Ma in che senso? Cioè ti smicciava tipo batteria Capito? Che cazzo Porca droga Te l'ha smicciata Cioè in 3 secondi te l'ha smicciata Cioè in 3 secondi te l'ha smicciata Ma poi caricamento Capito? Che dito te l'ha sposto Pure al link Tra l'altro La tecnologia dell'iphone Si del parachute Guardate ragazzi Vedi che lo devo mettere sotto Cioè tu lo puoi fare anche con le mani in teoria Ok interessante Apple Sponsor Grazie 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 Grazie